A Roma una donna tedesca di 57 anni è stata violentata, poi legata nuda a un palo. La scorsa notte intorno a Luna a Villa Borghese siamo nel parco, nel cuore di Roma. A dare l'allarme è stato un tassista che transitando nella zona in Viale Washington ha visto la donna legata a un palo con nodi ai polsi alle caviglie, con un fazzoletto in bocca che le impediva di urlare. L'uomo si è fermato, l'ha slegata e ha dato l'allarme alla polizia. Sul posto sono giunte volanti del commissariato, la polizia scientifica, la donna in Italia da sei mesi. Secondo il racconto della 57enne il suo violentatore sarebbe un giovane straniero.